Buonasera, salve, salve dottoressa, si ricorda di me? Sono il marito di Gabriella, Gabriella La Perchia, quella Gabriella, prego, prego, sì, perché mia moglie, allora volevo chiedere un consiglio a lei, siccome è successo che mia moglie Gabriella è incinta, veramente, auguribissimi, grazie, però c'è un dubbio, cioè praticamente mia moglie è incinta, però io sono sterile, che cosa pensa lei, è fortuna? No, è zoccola, come, come, mi ha, mi ha paura No, non so, il dolore, muri